Pagani Waira, il gioiello più recente delle boutique Pagani, si evolve dando voce al sogno di unire la poetica di una roadster con le performance di una BC. Così è nato il progetto della nuova Roadster BC, 40 esemplari in tiratura limitata ed espressione estetica degna di portare il marchio Made in Italy nel mondo. Rapporto peso-potenza da vera Hypercar, che permette un'agilità e performance oltre ogni previsione. La trazione, esclusivamente posteriore, completa le promesse per il divertimento di una vettura che, nonostante prezzo ed esclusività, non nasce per essere lasciata in garage, ma per accompagnare i fortunati proprietari in emozionanti esperienze di guida. Si sa, la potenza è nulla senza il controllo, per questo il pacchetto aerodinamico specifico ha ottimizzato i flussi per godere nuova Waira al meglio su strada senza inficiare le performance in pista. Per dare dimostrazione della forza di nuova Roadster BC, Pagani ha scritto la storia del circuito di Spa, il più antico e famoso autodromo del Belgio, segnando il tempo record di 2 minuti 23 secondi e 81 millesimi. Pag Per dar sfogo ai cavalli sprigionati sull'asse posteriore del V12 è servita l'esperienza del collaudatore Andrea Palma, in grado di esprimere tutto il potenziale della vettura. Se 40 esemplari non fossero abbastanza, dal grembo della Roadster BC è nata una nuova creatura, Waira Tricolore, un omaggio alle celebri frecce tricolore in cui arte e scienza si fondono con dettagli da cabina di pilotaggio ed uno studio sull'aerodinamica degno di un jet. Questa volta gli esemplari sono solo tre, ognuno unico e dedicato ad uno specifico leader della formazione aerea. Un altro passo di Pagani verso la massima espressione del piacere di guida. Dopo anni di studi e ricerche, Waira è ormai una realtà afformata, in grado di emozionare chiunque abbia la fortuna di salirci.